Ieri per me è stato davvero un gran bel giorno perché praticamente in contemporanea ho raggiunto due traguardi importanti. Il primo è questo, sul mio canale YouTube sono arrivato a 40.000 iscritti. Tra l'altro qualche giorno fa avevo anche fatto un video in cui ennocciavo di aver superato i 4 milioni di visualizzazioni, di cui oltretutto un milione solamente nei primi mesi di quest'anno del 2021. E il secondo traguardo, che in realtà è avvenuto l'altro ieri ma non ve ne avevo ancora parlato, è stato il superamento di quota 30.000 membri sul mio gruppo Facebook Bitcoin Italia, aperto e senza scambio, di cui vi metto il link in descrizione. Questi per me sono risultati molto importanti, ma voglio aggiungere che sono anche arrivati relativamente in fretta, mi spiego. Questo esempio è il video in cui annunciavo il raggiungimento di quota 30.000 iscritti per il mio canale YouTube. E questo video l'ho pubblicato il 3 febbraio di quest'anno, quindi pochi mesi fa. Io in pochi mesi sono passato da 30.000 a 40.000 iscritti. Per arrivare a 30.000 iscritti ci avevo messo circa 10 anni e per arrivare da 20.000 a 30.000 iscritti ci avevo messo 2 anni, stavolta invece da 30.000 a 41.000 sono bastati meno di 6 mesi praticamente. E il raggiungimento di quota 20.000 membri sul mio gruppo Facebook è arrivato addirittura a marzo del 2021, quindi davvero pochissimi mesi fa. In poche parole, in meno di 6 mesi il mio canale YouTube ha aggiunto 10.000 iscritti e in praticamente 4 mesi il mio gruppo Facebook ha aggiunto 10.000 membri. Per carità, quello che è successo nei mesi scorsi è qualcosa di pazzesco sui mercati cripto e in particolare su quello di Bitcoin e non è detto che si ripeta, tuttavia io comunque sono molto felice perché questi dati dimostrano che sto riuscendo ad arrivare a portare informazione ad un numero sempre più ampio di persone. Tra l'altro, solamente negli ultimi 3 mesi il numero di spettatori unici sul mio canale YouTube è stato di 150.000, quindi in poche parole il numero di persone che negli ultimi 3 mesi ha visto almeno uno dei miei video è molto superiore al numero degli iscritti al mio canale, cioè di quelli che si iscrivono per guardarne più di uno. D'altronde il mio obiettivo è proprio questo, cioè portare l'informazione riguardo Bitcoin e le criptovalute a un pubblico il più ampio possibile, a quante più persone possibile. Tra l'altro, grazie anche al raggiungimento dei 30.000 membri, il mio gruppo Facebook attualmente è il secondo più grande gruppo italiano su Facebook dedicato specificatamente alle criptovalute. E la cosa pazzesca è che non ho ancora compiuto un anno perché lo creai a luglio dell'anno scorso. Il mio canale YouTube invece esiste da tempo in memoria perché lo creai nel 2006, fate conto che YouTube è nata nel 2005, però ho iniziato a pubblicare video fatti da me solamente dal 2011 in poi, quindi sono dieci anni che pubblico video sul mio canale. Che dire, vi ringrazio tutti, se non siete ancora iscritti al mio gruppo Facebook vi suggerisco di iscrivervi, tanto non vi costa niente, ma che vada vi disiscrivete. E ringrazio soprattutto chi continua a seguirmi. Un saluto, ciao!